Allenamento pomeridiano al partenio Lombardi per l'Avelino di Mister Rastelli che continua a preparare la gara di domenica pomeriggio contro il Latina. Una sfida sicuramente da vincere per far tornare un briciolo di serenità nell'ambiente nello spogliatoio con il turno infrasettimanale che incombe mercoledì prossimo a Potenza quando il mercato sarà chiuso e tutte le attenzioni saranno dirottate proprio sul campo. Appare difficile al momento l'impiego di pane, matera e dall'olio che continuano a svolgere l'allenamento differenziato e terapie del caso per guarire dai rispettivi infortuni. Chiaro che continua l'emergenza a centrocampo con l'assenza di due uomini importanti soprattutto per le rotazioni. Dall'inizio ci saranno sicuramente D'Angelo e Casarini davanti alla difesa con il ballottaggio Maisto-Mazzocco dal primo minuto. Non avrà i 90 minuti ancora nelle gambe l'ex cittadella ma potrebbe partire dall'inizio lasciando spazio al giovane 2003 nella ripresa. In difesa Aya è recuperato ma Rastelli non dovrebbe puntare su di lui dall'inizio. Più probabile lo schieramento della coppia Moretti-Auriletto con Benedetti ad incalzare. Davanti invece Russo e Canutè dovrebbero essere confermati mentre al centro dell'attacco il ballottaggio è Tuncara-Gambale con il primo in vantaggio per una maglia da titolare. domani mattina la conferenza stampa di Mister Rastelli chiarirà qualche dubbio.